bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuter e ragazzi sono passati pochissimi minuti dall'upload del video che vi mostra la nuova skin spaccatutto che sono dovuto zrang ritornare sulla mia sedia e parlarvi del nuovo fucile in arrivo su fortnite così come un ladro nella notte arriva la notizia nella sezione news ufficiale di epic games di fortnite fucile d'assalto con mirino termico ragazzi avremo una nuova arma su fortnite il nuovo fucile d'assalto potenziato rende più facile scovare i nemici allora ragazzi parliamone un attimino di questo nuovo fucile di assalto col mirino termico sicuramente chi giocava o chi gioca tuttora agli fps in stile real sa benissimo che da sempre esistono i mirini termici quindi che cosa sono i mirini termici come funzionano in poche parole in situazioni di poca visibilità o addirittura di buio completo il mirino termico permette a chi sta utilizzando l'arma sul quale è montato di vedere allora tutto un po grigio però con i colori scusatemi quello altro era il mirino grigio quello grigio è il termico perché c'è il mirino quello notturno che ti fa vedere tutto grigio con le sagome bianche ma c'è anche quello termico che ti fa vedere il calore praticamente quello termico co 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 che sembra che sono blocca cacca cacca allora il mirino termico praticamente fa vedere tutto quello che abbiamo ovviamente sottotiro di colore blu verdognolo così ma riesce a rilevare le fonti di calore l'altro era il night visual al mirino notturno il mirino termico invece ragazzi più la fonte di calore è concentrata e più colorato è l'obiettivo che stiamo mirando si parte da un fulcro di colore rosso pieno per poi andare ad allargarsi passando dall'arancione giallo verde e poi ovviamente tutto il blu che sono le parti non termiche questo ragazzi è un inserimento abbastanza che a me coglie principalmente alla sprovvista perché un mirino termico su fortnite what nel senso e non solo un mirino termico su fortnite ma addirittura un nuovo fucile d'assalto quindi ragazzi wow vedendolo così sembra molto simile a una k47 sembra un kalashnikov con ovviamente riadattato allo stile di fortnite con questo bel quello mi sembra un 4x dovrebbe essere un akog visto così quel mirino di solito i termici sono 2x 4x non penso che vadano più avanti questo caricatore visto così dovrebbe essere da 30-35 colpi comunque come un normale AR e ragazzi la cosa è molto non capisco se sia silenziato perché davanti ragazzi vedo quella specie di strozzo che vedete appunto sulla parte finale della canna del fucile potrebbe essere un silenziatore però sarebbe scritto fucile d'assalto silenziato ci manca in realtà un fucile d'assalto silenziato è raro è raro trovarlo anche nei giochi di guerra normale però c'è abbiamo le mitragliatrici silenziate abbiamo le pistole silenziate perché non inserire anche un fucile normale silenziato sarà molto interessante ragazzi vi ricordo ecco adesso io non so se succederà o meno questa cosa ma io ricordo e qua riprendo sempre il mio bene amato battlefield che se noi utilizzavamo un fucile dotato di mirino termico in una situazione di luce veniva fuori un casino perché non si vedeva proprio bene il mirino termico ragazzi va usato prettamente di notte cioè funziona bene lavora bene con il buio con le tenebre noi sappiamo ovviamente che fortnite sia la modalità notturna ecco la particolarità di fortnite è che c'è durante l'arco della partita il giorno e la notte quante volte ci capita che cominciamo che è buio e poi drag vedi il sole che sorge e diventa giorno quindi interessante parecchio visto da questo punto di vista questa nuova arma che ben presto vedremo beh io credo sinceramente che allora o l'hanno inserita dentro perché ci hanno ancora problemi con il play quindi dicono aspetta che teniamo calma la folla perché sono qua mi si inferverano via su un disastro quindi potrebbe essere un ulteriore posticipazione della modalità parco giochi boh oppure siccome hanno ritardato con l'uscita del parco giochi vuoi dire che sempre per tenere calma la folla mettono il nuovo fucile termico insieme alla modalità parco giochi con l'update di martedì boh ragazzi l'unica cosa certa è che la settimana prossima sarà veramente pom 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 ricca di sorprese non so bene perché il pom 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 ricca di sorprese manco fosse capodanno ragazzi poi ci avremo il torneo delle tre no delle tre te lo dico sempre le tre quello che ti porterò ovviamente sul canale il nuovo fucile la modalità parco giochi lo spacca tutto le sfide della settimana 7 insomma qua ragazzi c'è da iscriversi mi iscrivo anch'io mi iscrivo anch'io al canale xuder xuder metto un bel like perché se no ragazzi se non ci iscriviamo a questo canale le notizie ce le perdiamo un po come le trote nei fiumi ragazzi va bene va bene io direi che per questo altro clip per questo altro video mega speciale è tutto non vi carico oggi allora il best moment vostro delle vostre clip numero 4 ve lo sbatto su domani di prepotenza io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e dai e dai un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale ci vediamo tra qualche ora in live ciao 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 ciao